Termina definitivamente l'isolamento forzato della Valle Spluga. Sabato, come da crono programma, apre la pista alternativa alla statale 36, località Gallivaggio. Chiusa ad aprile a singhiozzo al traffico, a causa dei continui movimenti franosi del versante e culminati nell'imponente distacco da 5.000 m3 dello scorso 29 maggio. La strada, che consente di evitare il tratto della statale che passa proprio sotto la parete rocciosa, nei presi del santuario di Gallivaggio, è lunga quasi un chilometro. Parte proprio da Gallivaggio, in località San Giacomo Filippo, per terminare dopo il ponte sul torrente Avaro. I lavori sono stati eseguiti in tempo record, è il commento di Severino De Stefani, presidente della comunità montana della Val Chiavenna. Nei giorni scorsi si è proceduto l'asfaltatura del tracciato e mancano solo alcuni piccoli accorgimenti, spiega il presidente dell'ente, ma da sabato si potrà già transitare sulla via, che inaugurerà il giorno stesso alle 11. Presenti alla cerimonia, tutte le massime autorità territoriali, fra le quali gli assessori regionali al territorio e protezione civile e la montagna, Pietro Foroni e Massimo Sertori. È stato un bel lavoro di squadra, continua De Stefani. L'apertura della pista alternativa ci consente di sanare in parte la stagione turistica estiva, compromessa dalle limitazioni al traffico, ed assicurare invece al 100% quella invernale. Non si conoscono ancora le tempistiche, invece, della perdura della Statale 36. Attualmente si procede con i lavori di messa in sicurezza del versante, che al momento non registra movimenti significativi. In seguito si procederà alla ricostruzione dello svaso del vallo, riempitosi dopo la frana. Il progetto esecutivo deve ancora essere presentato, ma si presume ci vogliono alcuni mesi prima di terminare le opere. Soltanto alla conclusione dei lavori sullo svaso sarà possibile risistemare parte del santuario, colpito da alcuni massi ma miracolosamente scampato alla frana. Momentaneamente è stato coperto il tetto per evitare eventuali infiltrazioni d'acqua.